Pronti con Davide Giuliano, una stagione importantissima, una consacrazione per la tua giovane carriera. Sì, come hai detto è importante, importantissima, con un marchio, con un brand che mette i brividi solo a guardarlo e speriamo che riusciamo a fare veramente bene. Tu hai già fatto i primi test, le prime impressioni della nuova Factory Superbike Ducati. Le impressioni sono assolutamente buone, siamo andati subito molto bene io e Ciaz, su diversi circuiti ci siamo sempre battuti con i primi quindi questo significa che sicuramente qualcosa è cambiato e noi lo stiamo sfruttando bene. Detto questo, di certo i test sono sì un grande punto di partenza, però poi la verità si verrà in gara. Che importanza ha per un pilota come te avere un partner come team che permetterà a tutti gli amanti di questo sport di seguirti sui canali live on LTE, sui tablet, sui pc, sui smartphone? E' importantissimo, avere dei partner così importanti è sempre molto molto bello soprattutto avere dei partner che sono così lanciati nei social network e in tutto questo che ormai è fondamentale per la crescita di tutti. Non dico del marchio che ci aiuta a fare questo ma anche la mia crescita e la crescita di altre persone. Proprio dai social di team e di Telecom arrivano a Ducati. Una domanda, Ducati sta per fede e ti chiede chi è il pilota al quale ti ispiri o che ti ha ispirato in passato. Beh sicuramente Svans è quello che è il mio beniamino, quindi è sicuramente lui. Tu comunque un minimo guidi alla Kevin Svans per davvero. Bene, mi sono impegnato veramente tanto per cercare di assomigliargli. Bocca al lupo. Crepit Lugo, ciao!